Il comprensivo Aldisio Pascoli di Catanzaro Centro è stata scuola pilota del progetto scolastico cui hanno dato entusiastico consenso le famiglie di oltre 300 ragazzi. La cardioprotezione totale del capoluogo diventa così un obiettivo sempre meno difficile. La vita in un battito è esattamente il titolo che descrive assolutamente il cuore di queste iniziative, cioè quella di fare prevenzione nella scuola, una prevenzione che è iniziata nel 2007 con l'AMCO nazionale che ha in un certo senso sposato un progetto di coscientizzazione sullo territorio che ha portato alla formazione di professori e poi successivamente alunni che a loro volta formavano i loro amici e colleghi. Da questo cammino poi si è arrivati all'incontro con la Live On Lusso che dà e dona dei defibrillatori nei campi di calcio dopo la morte di Pier Mario Morosini e questo ha dato la possibilità in una grande iniziativa che è Catanzaro Città Cardiovo Protetta di dare questi defibrillatori sul territorio. Lavorando con la scuola e avendo l'adesione delle scuole, soprattutto Aldisio Pascoli che è la scuola pilota di questa iniziativa nella città, si è pensato di fare prevenzione con un semplice elettrocardiogramma. Noi facciamo un elettrocardiogramma ai ragazzi e questo elettrocardiogramma può essere uno screening iniziale. E quello che mi ha fatto molto piacere è che c'è stata una grande, grandissima adesione dei genitori all'iniziativa. Quasi tutti i ragazzi potranno essere sottoposti all'elettrocardiogramma. Questo significa che la scuola con il suo dirigente e i professori hanno sensibilizzato adeguatamente i ragazzi e le famiglie e questo porterà sicuramente a un risultato quantomeno di screening sulla popolazione. È un'idea originale la nostra perché i nostri ragazzi che vanno incontro ad attività sportiva in alcuni casi non sanno, pensano di essere in perfetta salute, poi si può andare incontro a dei problemi che magari sono occulti. Quindi noi sottoporre i ragazzi a questo screening significa prevenire eventuali patologie che possono essere sanate.